famiglia americana che comprende superstar come Neil Young, come Linda Rostad, cioè quella famiglia americana che ha portato direi quel nuovo suono americano al crocevia tra il rock e la tradizione. Nicolette prima molto carinamente diceva non so parlare assolutamente italiano ma qualcosa la vorrei dire. Vuoi provare a dire in italiano? sono contenta di essere a questo programma. Grazie molto gentile grazie è la prima volta che si trova qua in Italia e ha subito imparato una frase che ci ha fatto molto piacere ora io vorrei chiedere vieni qua a Fiammetta perché tu sei brava così fai sfoggio ma domandale quanto quanto sono lunghi i suoi capelli I would like to ask you how long is your hair? 3 meters? 3 metri 3 metri 3 metri Te l'inglese lo sai quanto è mi... però io sapendo questo le sopportate il centimetro e la misuro sai ma dalla radice si misura dalla radice vediamo un po' quanto... 103 103 103 oh che mi dico che sono scemo c'è scritto 103 103 che no italiani mati crazy italiani beh va bene allora eh the title of the song qual è? lot of love eh? lot of love ok lot of love 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 che detto in americano invece è? lot of love lot of love eh eh ok ok sì azale è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti